Musica Celebrate a Barbara i funerali di Noemi Bartolucci, la 17enne morta nell'alluvione, Vigili del Fuoco, ancora lavoro per cercare sua mamma, l'ultima dispersa Brunella Q. Maxi impianto fotovoltaico sulle colline di Fano e Cartoceto del Vecchio, rende pubblici documenti e richieste, Seri e Fanesi assicurano, ci opporremo per dire di no, il progetto non rispetta nel piano regolatore e nelle norme regionali. Lavori pubblici a Fano dopo l'accusa di Seri per l'uscita dall'aula di Giacomoni, Lucioli e Clini, la capogruppo del PD Replica, non era corretto votare una delibera da 3 milioni di euro senza una condivisione in maggioranza e in assenza di un assessore di riferimento. Visite gratuite, donazioni di sangue, concerto di beneficenza e la seconda camminata in rosa, presentate a Fano le iniziative per il mese sulla prevenzione del tumore al seno. In 250, la 26esima edizione della Corrifano, una grande festa dello sport con runner, camminatori e bambini, Eugenio Calcina ha vinto la competizione ufficiale di 8,4 chilometri. Lunedì 3 ottobre, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. A distanza di pochi giorni dal funerale del piccolo Mattia nella chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara, in provincia di Ancone, è stato dato l'ultimo saluto a Noemi Bartolucci, la studentessa di 17 anni, vittima dell'alluvione. La sera del 15 settembre, la giovane si trovava in auto con la madre, Brunella Chiù ancora dispersa, e il fratello che è riuscito a salvarsi. Ad attendere la barra bianca sul sagrato, gli amici di sempre con una rosa bianca in mano e una maglietta nera con il volto della ragazza. Noemi continuerà ad abitare nei nostri cuori e continueremo a sentirla sorella e amica del nostro cammino, ha detto il Vescovo Manenti, durante la cerimonia, ufficiata, insieme al parroco Don Paolo Montesi. Noemi ogni domenica animava la messa, cantando e suonando la sua chitarra, hanno ricordato, era piena di vita. Tanta la commozione durante l'uscita del feretro, presenti anche il governatore Francesco Acquaroli e le istituzioni locali. Pesaro invece piange la scomparsa di Alfonsina Tomasucci, morta all'età di 77 anni. Una donna che molti ricordano per il ruolo di insegnante e per il suo impegno negli organi collegiali della scuola, ricoprendo incarichi nella vita sociale e politica della città. Consigliera comunale e dirigente di partito, ha sottolineato il sindaco Ricci, la cosa di cui andava più fiera era l'impegno che condivideva con le compagni di tante lotte a favore dell'Associazione Casa delle Donne. Alla famiglia, ha concluso il sindaco, il mio personale cordoglio è quello della città. Ancora cronaca con un incidente che si è verificato questa mattina intorno alle 10.15 a Centocroci di Mondolfo. Un 81enne del posto era a bordo di una Fiat Punto e stava percorrendo la Pergolese in direzione Monte quando uno svoltare a sinistra per immettersi nel passo di casa è stato tamponato da un autocarro. A causa dell'impatto, la Fiat è finita nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un altro mezzo pesante che non è riuscito ad evitare lo scontro con la vettura. Sul posto è il 118 che ha trasportato l'anziano all'ospedale di Senigallia e la polizia locale per i rilievi di legge. La strada è stata chiusa al traffico per circa un'ora in entrambi i sensi di marcia. Sta facendo discutere il maxi impianto fotovoltaico che si vorrebbe realizzare tra i comuni di Fano e di Cartoceto. A rendere noto il progetto è stato il coordinatore provinciale dell'Udc Davide Del Vecchio. Un impianto agrivoltaico di 45 ettari equiparabile a 60 campi di calcio per oltre 28 megawatt di potenza è quanto si vorrebbe realizzare tra le vie Cannelle, Cereto, Morola e la strada provinciale per Monbaroccio. Come specificato nell'avviso pubblico si tratta di un modello ecosostenibile che produce contemporaneamente energia pulita e prodotti agricoli. Infatti negli spazi liberi tra i pannelli fotovoltaici si possono coltivare cereali, erba medica, il carciofo tardivo di Pesaro, la cicerchia di Serra dei Conti, ma anche la fava di Fratterosa e il cecequercia di Appignano. Il progetto inoltre comprende un impianto di accumulo vicino alla centrale elettrica di Carrara e la connessione all'impianto avverrebbe mediante cavo interrato a media tensione che si estenderà lungo la viabilità pubblica sulla strada provinciale 80 per un percorso di circa 3,3 km fino alla Flaminia, all'altezza del bar Arcobaleno, e poi in antenna fino al nuovo impianto. Invece l'allaccio alla centrale elettrica di Carrara avverrebbe mediante cavo interrato di alta tensione di circa 620 metri. La notizia è stata resa pubblica dall'ex assessore e coordinatore provinciale dell'Udc Davide Del Vecchio che ha fatto sobbalzare dalla sedia residenti e politici. Infatti per Del Vecchio il progetto depositato al Ministero della Transizione Ecologica da parte della società Chape Renewables di Bellocchi, con sede legale a Palermo, sarebbe stato nascosto dalla giunta seri. Del Vecchio come e quando è venuto a conoscenza di questi documenti? Ma questo avviso era presente nel sito del Comune di Fano, quindi tra gli avvisi del sito del Comune di Fano e tra gli avvisi del sito della Regione Marche. Quindi era visibile a tutti, non solo al sottoscritto. Amministratori comunali compresi quindi? Amministratori comunali compresi, anzi, peggio ancora perché sia all'ufficio del Sindaco, che ovviamente è quello della Regione, è arrivata proprio la missiva al Sindaco, quindi direttamente agli uffici, quindi al di là che è stata pubblicata poi sull'albo operatorio, è arrivata proprio agli uffici, alla Secretaria. Ci può spiegare esattamente di che impianto si tratta? Beh, intanto è un impianto fotovoltaico agrivoltaico, quindi praticamente sotto avranno la possibilità di continuare a coltivare, nonostante sopra ci siano questi pannelli. Ed è ubicato tra Cartoceto e Fano. Il problema non è tanto quello, io non sono contrario a queste nuove fonti rinnovabili, ma il problema è la centrale che andranno a costruire proprio a Carrara, di nuovo sul nostro quartiere, Diunet. Circa un ettaro e sarà un impianto di accumulo elettrochimico, quindi sono delle batterie in buona sostanza, ma con tutti i trasformatori e gli inverter del caso, quindi non sappiamo quanto rumore farà, quanto impatto luminoso avrà, e quindi cosa inciderà sulla svalutazione anche complessiva del nostro quartiere, che già è penalizzato dalla centrale che ormai c'è da tantissimi anni, ma dall'Adriatic Link, questo nuovo impianto che andranno a fare i prossimi anni, sul quale ormai questa è una decisione già sodata, ci sarà questo impianto di diversi ettari, alto più di 20 metri, sul quale stiamo lavorando per mitigare questo impatto. A questo andiamo a aggiungere un'altra centrale di un ettaro, non è ammissibile sul nostro quartiere. Lei ha già chiesto un incontro al sindaco? Io adesso invierò anche delle PEC perché è bene che intervengano subito e facciano le osservazioni, perché le osservazioni scadono questa settimana, l'8 di ottobre, quindi tutti i cittadini, compreso il sottoscritto, faranno delle osservazioni facendo rilevare alcune anomalie nella presentazione del progetto. E la decisione finale però di chi sarà? Penso a degli antipubblici che dovranno dare le autorizzazioni di fare queste opere all'interno delle zone agricole, perché noi parliamo di zone agricole, questo vorrei far ben capire, non è una zona industriale dove uno ubica un impianto di questo tipo, noi siamo in una zona apprettamente a boccazione agricola, in un quartiere, all'interno di un quartiere con 2000 abitanti, e ci andiamo a mettere di nuovo un carico sopra con una centrale di oltre un ettaro. E questa mattina il sindaco di Fano Massimo Seri ha spiegato di essere venuto a conoscenza del progetto soltanto pochi giorni fa. Il Comune, come richiesto dalla Regione, ha inviato il suo parere, ma dalle carte è emerso che quest'opera non può essere realizzata, perché non conforme al PRG di Fano e non in linea con le deliberazioni della Regione, essendo un'area di versante e quindi non idonea. C'è un'emergenza climatica in atto con la necessità di puntare sulle fonti di energia rinnovabile, ma a tutto c'è un limite, il territorio va salvaguardato e serve la solidarietà di tutti. Così il sindaco di Fano Massimo Seri, che prima delle spiegazioni tecniche illustrate dal suo vice e assessore all'urbanistica, ha voluto mettere in chiaro il suo disappunto per l'impianto agrivoltaico che è oggettivamente impattante, ha detto Seri, e come precisato da Cristian Fanesi, è uno dei più grandi mai proposto al Comune di Fano e probabilmente a tutta la vallata del Metauro. Ma non solo, perché studiando le carte, i tecnici hanno accertato delle carenze nella documentazione prodotta dalla società di Bellocchi, che non terrebbe conto delle norme in vigore, oltre a non essere conforme al piano regolatore di Fano perché ricade sulle aree agricole. Abbiamo notato che questo terreno si trova nelle aree non idonee per quanto riguarda le deliberazioni della Giunta regionale Marche del 2010 e quindi, secondo noi, questo impianto non si potrà mai fare, stante alle regole che ci sono in questo momento vigenti, perché quella è un'area diversante, ovvero si trova tra il Crinale e il Fondovalle, è un'area in cui non si possono più fare questi impianti. Ne sono stati fatti alcuni prima del 2010, poi nel 2010 è arrivata una legge regionale che corregge questa stortura perché le aree agricole devono essere usate per l'agricoltura. E dunque noi abbiamo detto, alla Regione Marche, che ci ha chiesto un contributo, che siamo assolutamente contrari rispetto alla localizzazione dell'impianto vero e proprio. Inoltre siamo assolutamente contrari anche alla possibilità di costruire una centrale di trasformazione media tensione, alta tensione, in località Carrara, perché questa si troverebbe praticamente a due passi della stazione elettrica di Carrara e soprattutto andrebbe a chiudere un edificio fatto di sei unità abitative che proprio si trova lì di fianco e quindi ci sono dei problemi sia dal punto di vista del rumore, dal punto di vista dei campi elettromagnetici e anche dal punto di vista proprio della fruizione di un'area che comunque va tutelata. Abbiamo scritto queste cose il 30 venerdì 30, avevamo programmato per oggi la conferenza stampa, ma il nostro parere è molto chiaro e deciso. Questo impianto non si può fare laddove l'hanno proposto e non si deve fare perché non si tiene conto anche di quelle sei famiglie che abitano lì e sono tra virgolette chiuse tra un impianto e l'altro. Inoltre la Regione, che a questo punto ha il potere anche di dire no a questo impianto, deve tenere in considerazione che oltre a questo progetto, sull'area ci sono altri progetti, in particolare ce n'è uno, quello di Aderatic Link, che ha una valenza nazionale e un'importanza che noi non abbiamo mai negato e quindi le sovrapposizioni di questi progetti possono rovinare una zona già compromessa alla stazione esistente che è quella di Carare e quindi noi siamo assolutamente contrari. Una posizione initta, dunque ribadita anche dal primo cittadino. L'abbiamo detto, l'abbiamo già scritto, noi venerdì abbiamo già risposto espresso il nostro parere perché bisogna dire basta. Noi abbiamo capito che c'era il progetto della centrale Aderatic Link che va al di sopra delle nostre volontà, c'è un'esigenza di carattere nazionale, governativo però c'è un limite a tutto, non si può spremere sempre un territorio quindi qui si va a detruppare le colline ma c'è tutta una serie di problematiche quindi noi abbiamo già dimostrato la nostra contrarietà, continueremo a farlo mercoledì fra l'altro ci vedremo anche con Cartoceto e la provincia perché bisogna essere uniti in queste attività e poi faremo fronte anche con la regione perché questa richiesta è arrivata attraverso la regione per cui la nostra posizione è netta e chiara. Anche il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi va contro il progetto che ha definito uno scempio che andrebbe a devastare il paesaggio e le eccellenze agroalimentari percepisco come un'offesa all'onestà intellettuale delle pubbliche amministrazioni di cittadini ha detto la soluzione del soggetto proponente di voler mantenere tra e sotto i pannelli la coltivazione di alcune eccellenze agricole è più che evidente, ha proseguito il sindaco, che di fronte a questa tipologia di investimenti l'unico vero obiettivo è solo la speculazione economica occorre invece incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici installati su ogni categoria di edificio tutti gli enti coinvolti esprimano il loro dissenso, ha concluso Rossi il quale ha auspicato che anche la regione sia in linea con la loro posizione Cambiamo argomento perché dopo il rimprovero del sindaco seria i tre consiglieri del PD che non hanno votato l'immediata eseguibilità della delibera che utilizza l'avanzo di amministrazione per alcuni lavori pubblici in città arriva la replica del capogruppo Agnese Giacomoni Siete stati definiti politicamente responsabili dal primo cittadino che poi si è scusato con i fanesi Agnese perché siete usciti dal Consiglio Comunale al momento della votazione? Siamo usciti dal Consiglio Comunale proprio perché invece al contrario abbiamo a cuore la nostra città abbiamo ritenuto che votare una delibera da 3 milioni di euro senza aver avuto la necessaria condivisione in maggioranza e senza aver valutato in maniera oculata oltretutto in assenza anche dell'assessore competente che in quel momento aveva annunciato le sue dimissioni e in assenza del nuovo assessore ai lavori pubblici ci sembrava una scelta davvero precipitosa e non corretta nei confronti della città che merita scelte oculate anche di maggiore visione perché con quei 3 milioni avremmo potuto valutare bene appunto scelte più importanti come il Waterfront, il Lungomare Sassonia ovviamente l'Interquartine di Gimarra, la questione del teatro romano che è praticamente sparita dai notiziari e tutto quello che appunto riguarda le scelte strategiche della città Quindi non c'è stato un confronto neanche nelle riunioni cosiddette preparatorie tra l'altro l'assessore Cuccherini è proprio del PD? Con l'assessore Cuccherini ovviamente ci eravamo confrontati ma anche in maggioranza però senza, ad esempio nessuno ci aveva detto che c'era l'urgenza per alcuni provvedimenti e che c'erano delle scadenze ovviamente si tratta di un ritardo di soli 15 giorni di fronte ai ritardi enormi, alle lentezze, alle inefficienze di questo settore appunto della nostra città, dei lavori pubblici è chiaro che ci sentiamo un po' presi come capro espiatorio perché non siamo noi con i nostri 15 giorni di ritardo ad aver compromesso l'esito dei lavori in questa città pensiamo ai ritardi sul PRG, ad esempio pensiamo ai ritardi su tutte le opere strategiche della città tra l'altro mi pare giusto dire che noi proprio nello stesso Consiglio Comunale io avevo appunto sottoscritto insieme alla consigliera Luzzi una mozione sulla strada della scuola di Cucurano l'abbiamo approvata e tutte le liste del sindaco ad esempio l'hanno votato contro per cui lì c'era necessità di una scelta urgente per quel quartiere e per quella scuola e quella scelta ovviamente non è stata fatta dalla nostra amministrazione ma soltanto dalla nostra iniziativa con l'aiuto ovviamente delle opposizioni in quel caso A questo punto che cosa si sente di dire lei al sindaco? Ci auguriamo che questo attacco non sia dovuto al fatto che noi tre consiglieri appunto in passato abbiamo combattuto per l'autonomia di Aset abbiamo lottato in Consiglio Comunale contro il progetto di fusione con Marche Multiservizi e ci auguriamo davvero che il sindaco possa davvero da qui in avanti essere un buon padre di famiglia e comportarsi in maniera equa con tutti i suoi figli in maggioranza Il partito socialista di Fano invece parla di un PD diviso e di un mancato confronto tra le forze della maggioranza come non prendere atto? Si legge in una nota e condividere le parole della capogruppo Agnese Giacomoni che rivendica un rispetto istituzionale nel ruolo di rappresentante eletta dei cittadini sul piano politico, proseguono i socialisti è una posizione legittima ma che suona anche come denuncia di assenza di dialogo da parte dell'assessore al bilancio Sara Cucchiarini l'unica vera bocciata nel ruolo dai consiglieri del suo stesso partito come socialisti hanno concluso riteniamo di prendere un momento di riflessione e di aprire un sano confronto di maggioranza per dare al sindaco quella serenità necessaria per continuare il lavoro Ed ora spazio alle vostre segnalazioni che ci portano in via decima strada a Bellocchi di Fano quella che per intenderci da via prima strada porta alla filiale della BCC di Fano alle poste e agli altri esercizi del piccolo centro commerciale diversi residenti denunciano lo stato di degrado del marciapiede realizzato nel 1978 e poi lasciato all'abbandono ci ha raccontato un reporter infatti non sono più state eseguite manutenzioni ha spiegato e il camminamento è diventato pericoloso si è formata anche una grossa buca dalla quale escono i ratti più persone sono già cadute e un anziano che abita lì dovendo aiutarsi con un carrellino per diambulare è costretto a passare direttamente sulla strada o meglio in mezzo alla strada visto che di fianco al marciapiede ci parcheggiano le auto gli abitanti chiedono quindi un intervento urgente da parte del comune affinché venga sistemato quanto prima la mentele anche in via Leonardo Battista Alberti siamo in questo caso nel quartiere del Vallato dove il marciapiede e le mattonelle sono rotte, sconnesse e pericolose soprattutto per gli anziani e i bambini un residente ci ha fatto sapere che sia Cristian Fanisi nel 2017 che Fabio Latonelli negli anni successivi avevano promesso i lavori ma ad oggi non è stato fatto nulla ottobre si riconferma il mese della prevenzione con la sua agenda ricca di appuntamenti per lo screening gratuito ed eventi volti a sensibilizzare la popolazione sul tema del tumore al seno questa mattina a Fano sono state presentate le iniziative organizzate dal comune dal mondo della sanità e anche da tante altre associazioni locali domenica 9 torna la camminata in rosa al servizio di Filippo Pucci L'assessorato alle pari opportunità del comune di Fano ha organizzato in collaborazione con tante associazioni del territorio una serie di appuntamenti legati al mondo femminile che vede visite, eventi e concerti si chiama Ottobre in Rosa il programma presentato questa mattina all'interno della Sala della Concordia e che vedrà tutti i martedì e mercoledì del mese corrente delle visite senologiche gratuite della Breast Unit nel 2021 sono state ben 435 le donne affette da tumore alla mammella mentre sono 750 gli interventi chirurgici senologici tutte le donne devono attuare questo, accettare, aderire a questo nuovo sistema questo sistema di prevenzione che è appunto la mammografia e non solo la mammografia anche l'ecografia se possibile annuale quello che passa lo screening è una ogni due anni ma fondamentale è fare i propri controlli gli interventi chirurgici sono cambiati notevolmente negli ultimi anni noi qui a Farno abbiamo la possibilità intanto di avere l'esame istologico estemporaneo dell'infonodo sentinello questo grazie alla nostra direzione che ha acquistato una macchina particolare sia l'unice da velo nelle marche che permette appunto l'esame estemporaneo dell'infonodo sentinello intraoperatorio vuol dire che la donna in una seduta operatoria fa tutto a differenza di altri ospedali dove la paziente viene reoperata dopo 15 giorni se l'infonodo risulta essere positivo per cui capite che per la paziente è un beneficio notevole e per lo stato sono costi minori perché poi non deve essere reoperata la paziente altra cosa molto importante che ci distingue da tanti altri posti qui a Farno è la situazione della chirurgia oncoplastica della mammella è una chirurgia particolare che ci permette di dare risultati estetici notevoli anche perché la parte estetica comunque è una componente che fa parte della cura iniziamo a curare il paziente dall'atto chirurgico molte volte e la parte estetica ha la stessa importanza di tutte le altre componenti terapeutiche l'appuntamento proseguirà poi con la seconda camminata in rosa domenica 9 ottobre con partenza in piazza 20 settembre mentre per tutto il mese di ottobre sarà possibile effettuare le donazioni all'Avis di Fano per l'occasione tutti i principali monumenti della città verranno illuminati di rosa la camminata parte domenica mattina in piazza 20 settembre un circuito ad anello di un'ora 5 km non competitivo che ritorna in piazza 20 settembre la radunata è dalle 8 e mezza in poi si parte alle 10 un'ora scarsa di cammino si ritorna verso le 11 in piazza ci sarà poi una merenda e la distribuzione appunto dell'acqua ricordo che ad ogni partecipante iscritto sarà data la maglietta con scritto appunto la seconda camminata in rosa di Fano ricordo che le pronunciazioni sono aperte quindi potete iscrivervi dal sito del comune di Fano oppure chiamando i numeri che sono comunque quelli di riferimento del paricentro o dell'assessorato il programma continua il 9 novembre alle ore 21 nello splendido scenario del Teatro della Fortuna dove si svolgerà il concerto di beneficenza curato dall'orchestra sinfonica Rossini mentre alle ore 17 del 18 novembre al paricentro di Fano la lezione magistralis del dottor Magalotti insieme all'istituto europeo di oncologia sul tema quando intervenire è tornato puliamo il mondo la storica campagna di volontariato ambientale che coinvolge migliaia di cittadini volontari di tutte le età per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze, aree verdi ma anche sponde di fiumi e zone degradate oltre alla tutela del territorio per il trentennale sono state promosse iniziative per la sensibilizzazione sul tema della pace e ovviamente sulla lotta all'abbandono dei rifiuti quest'anno è iniziata proprio con questo spirito anche la collaborazione con la Croce Rossa Italiana di Fanno l'evento si è svolto il 2 ottobre all'Anfiteatro Rastat prevedendo la raccolta lungo alla spiaggia di Sassonia inoltre grazie alla sinergia con il Comune e con Aset si proseguirà nelle prossime settimane quest'anno sono state coinvolte 6 scuole con oltre 300 bambini e bambini la campagna infatti prevede vere e proprie lezioni di educazione ambientale all'interno degli istituti ma per maggiori informazioni sulle varie iniziative si può contattare il circolo di legambiente Fanno passiamo allo sport con la 26esima edizione della Corri Fanno che sabato scorso ha visto la partecipazione di ben 250 persone tra cui tanti bambini a tagliare il traguardo della competizione ufficiale è stato il Eugenio Calcina del Grottini Team Recanati ma sentiamo tutti i particolari nel servizio che è stato curato da Matteo Del Vecchio 5 4 3 2 1 Viva! Nemmeno il maltempo che mi ha causato il posticipo di due settimane ha fatto desistere i tanti appassionati di runner che sabato 1 ottobre si sono riversati nel quartiere di Gimarra a Fanno per prendere parte ad una gara che stando agli stessi atleti è tra le più belle del nostro territorio grazie ai panorami suggestivi che regala il suo percorso la Corri Fanno 2022 può essere definita senza alcun timore di smentita un'autentica festa dello sport alla quale hanno partecipato quest'anno il 250 compresi i tanti bambini che hanno dato vita a gare con mini circuiti riservati e gli avici di Borgo il quarantenne panese tragicamente scomparso a giugno del 2019 e al quale era dedicata la camminata non competitiva di 4 km alla competizione ufficiale di 8,4 km invece giunta la 26esima edizione si sono presentati i podisti da Marche Emilia Romagna e Umbria e a tagliare il traguardo per primo in 28 minuti e 54 secondi è stato Eugenio Calcina del Grottini Team Recanati che ha preceduto Luca Bauchiero della SD Marotta Mondol Foran e Francesco Tornati del Gav di Bologna rispettivamente di 49 secondi e 1 minuto e 10 secondi primo rappresentante fanese è stato Gianmarco Bertini del gruppo podistico Fano Corre Lamberto Tonelli che è transitato sotto il gazebo Avis CSI in 30 minuti e 37 secondi la medaglia d'oro in campo femminile è andata invece a Luana Leardini del Gav di Bologna che ha percorso la distanza totale in 34 minuti e 25 secondi facendo il vuoto alle sue spalle la seconda classificata infatti Penelope Crostelli della podistica Valmisa ha tagliato il traguardo in 36 minuti 15 appena 14 secondi prima della fanese Sara Collesi giunta terza alla cerimonia di premiazione dove oltre ai vertici CSI e Avis ha partecipato anche l'assessore allo sport del comune di Pano Barbara Brunori sono stati attribuiti riconoscimenti anche per i primi classificati donatori di sangue e per le tre società più rappresentate che nello specifico sono state Fano Corre ASB Marotta Mondolfo Rani e gruppo sportivo Lucrezio con la Corri Fano 2022 si è chiusa di fatto la lunga stagione stiva CSI ora spazio ai campionati di pallavolo calcio a 5 e calcio a 8 maschili e alla grande novità della stagione il calcio a 5 femminile la bocciofila San Cristoforo di Fano ha centrato sabato scorso la promozione in serie B la terza serie nazionale di bocce sono bastati poco meno di 30 minuti alla squadra targata Sportland per chiudere la pratica Barcardelli dopo il netto 8 a 0 maturato nella sfida di andata a mettere in cassaforte il match è stato il solito Gianluca Manuelli che grazie all'8 a 6 sul suo avversario ha reso vano l'esito delle altre partite un cammino netto fin qui da parte dei giallo-azzurri che ora saranno chiamati alla doppia sfida contro l'Avis Montecatini ultimo ostacolo prima della Final Eight in calendario a Campobasso i primi di novembre a prescindere comunque dall'esito dell'incontro con la formazione toscana Capitan Giovanni Iacucci e Sochi hanno centrato il primo obiettivo della stagione festeggiato con una maglietta celebrativa che in piena fanesitudine riporta la scritta quel che è bello è bello quello che è bello è bello e l'informazione torna domani mattina con Massimo Foghetti alle 7 in diretta per la rassegna stampa noi invece ci rivediamo domani sera alle 20.30 per il telegiornale Occhio alla Notizia buona serata a tutti e non la notizia